Ancora caos rifiuti a Torre del Greco, di nuovo un lunedì caratterizzato da strade in base dall'immondizia nella città del Corallo. I rifiuti non raccolti fuoriescono dai contenitori appositi o, semplicemente, giaciano sui marciapiedi. Come spesso accade alla fine del weekend, la raccolta non è stata effettuata nel corso della notte e delle prime ore della mattina. Con le nostre telecamere abbiamo mostrato il degrado di Corso Garibaldi, ma le stesse immagini possono essere riscontrate anche in tutto il centro storico cittadino. Oltre all'evidente assenza di operatori, è chiara anche l'inciviltà di alcuni residenti. Fra i soliti sacchetti appaiono rifiuti ingombranti depositati a bordo strada, mobilio anche integro, elettrodomestici, immancambili materassi e pezzi di autovetture. Preoccupazione anche per il maltempo di queste ore. Il forte vento potrebbe disperdere i cumuli di rifiuti riversandoli nell'aria e in ogni angolo della città, mentre i previsti temporali potrebbero far arrivare tutta la sporcizia in mare.